Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Il sinistro, metti dentro il piede sinistro, come hai fatto adesso. Metti il sinistro dentro, gancio, sinistro. Viene sinistro dentro, all'interno della sua coscia destra. Metti dentro il piede sinistro all'interno. Fai il gancio e metti il ribaltare, vai in mano. Insisti, dai. E' che l'idea è buona, insisti? Giralo, giralo. Inserisci un gancio all'interno della sua gamba, hai capito o no? Ribaltalo, ribaltalo, gira. Ma se non lo ribalti, sei lì, eh. Ribaltalo. Non hanno ancora chiamato. Scusi a premio, chiamano ma che stavate a dobbiamo fare. Anche a un che peso si partecipa. Io sono 72 piedi. Chiami? A casa. E' da due persone. E' da due persone. Chi è che sei di voi? Siamo plegati, Giovanni. Nella signora che sta. E' da due persone. Dica. Dica. Grazie. Non ti far aprire, non ti far aprire. Non ti far aprire, non ti far aprire. Non ti far aprire, non ti far aprire, non ti far aprire. Non ti far aprire, non ti far aprire, non ti far aprire. Non ti far aprire, non ti far aprire. Grazie a tutti.